... Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domedì 30 dicembre 2019, ormai siamo agli sgoccioli di questo anno che se ne sta andando, piano piano se ne scivola via e ci stiamo preparando un po' tutti quanti per questa serata, che è quella di domani, lo vedremo anche dai giornali, i giornali scrivono molto su quelle che sono le iniziative dell'ultimo dell'anno in programma per la giornata appunto di San Silvestro e dunque ci stiamo preparando anche mentalmente per le ultime cose da predisporre e da fare. Noi intanto apriamo questa nuova giornata informandoci attraverso i quotidiani, il resto del carino del Corriere Adriatico che come sempre troverete dal vostro edicolante di fiducia e che noi invece questa mattina vi offriamo in una lettura veloce dei titoli, delle notizie più importanti attraverso il nostro touchscreen. Cominciamo però prima con il santo di oggi, domani San Silvestro lo sappiamo già, ma oggi è invece il beato Giovanni Maria Boccardo. Il sole invece sorgerà alle 7.41 e tramonterà questa sera, oggi pomeriggio, alle 16.39. Diciamo del tempo allora, andiamo a vedere subito il sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede un cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie e venti che soffieranno di brezza tesa dal nord. Sarà fresco questa mattina intorno alle 5.00-5.30, perlomeno qua a Fano erano 3 gradi, insomma, quindi si sente, ma è giusto così. Durante la notte e il primo mattino attenzione alle gelate nei fondovalli e lungo i corsi d'acqua, quindi se avete ancora soprattutto la macchina fuori, come dire, non è in garage o non è a riparo, ecco, ci sarà un po' di brina sicuramente, ma soprattutto fate attenzione alla strada, alle insidie del ghiaccio. Mentre per la giornata di domani, che è appunto, come dicevamo, l'ultima giornata dell'anno, avremo sulle Marche un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori massimi, mentre saranno stazionarie in quelli minimi. Di brezza tesa i venti soffieranno moderatamente dal nord e non ci saranno nebbia, non ci sarà nulla di tutto questo, dunque anche la nottata si prevede comunque terza, quindi dovrebbe essere buona anche soprattutto per tutti quelli che si andranno a festeggiare all'aperto, quindi ecco, senza foschie, senza nebbie, dovrebbe essere una bella serata quella di domani. Tempo stabile soleggiato anche per i prossimi giorni, con temperature massime in graduale ripresa, un probabile peggioramento nel fine settimana prossima, ma di questo avremo tempo sicuramente per parlarne. Adesso invece andiamo a leggere i titoli e cominciamo dal resto del carino di Pesaro. A centro pagina la fotonotizia è per l'operazione sicurezza, questa è una foto di Piazza del Popolo, questa vista in una prospettiva un po' diversa dal solito, ma comunque Piazza del Popolo, vedete a sinistra il comune, due agenti della Polizia di Stato che sorvegliano i partecipanti, coloro che stanno passeggiando, uno degli eventi di Piazza del Popolo. San Silvestro tra feste e divieti, ecco tutte le iniziative. Poi c'è la notizia invece, che speriamo sia buona e che si concluda bene nel prossimo, sia una delle buone cose dei primi giorni del prossimo anno. Tre proposte in campo per la Berloni, l'azienda che sapete è in liquidazione, si aprono ulteriori speranze e per farsi avanti c'è ancora tempo fino al 15 di gennaio. Poi la VL che non ha compiuto il miracolo, nel senso che il Venezia ha vinto a fatica, erano lì lì, come si dice, però alla fine la VL ha dovuto subire l'ennesima sconfitta. E poi a Urbino invece due persone sono state denunciate, lo vedremo tra poco, per il furto di un cellulare. La politica invece con la notizia di Arrigoni della Lega che sfiducia a Quaroli e di Fratelli d'Italia. La Lega ieri con un comunicato appunto del senatore ha ribadito, quanto espresso tra l'altro da Matteo Salvini e d'Ancona, ovvero che le valutazioni sul candidato governatore delle Marche saranno fatte soltanto nel mese di gennaio. A Pesaro, Ortigiuli, doppio incarico, forse è davvero la volta buona, c'è ancora in sospeso tutta una serie di lavori. Poi in centro, Galleria Roma, Intervento Bis, sarà rifatta tutta la pavimentazione. Ad Ancona invece stoppa i furti, periferie, centri blindati, razzie ad Ancona e provincia. Il comandante dei Carabinieri parla di controlli anche nelle viuzze, mentre a Villa Musone rubano anche le statuette del presepe. Anche qui la fotonotizia dell'edizione di Ancona e su San Silvestro. Due chef famosi anticipano il menù del cenone. A Macerata invece la carica degli 850 partecipanti alla Tolentino-Holf Marathon. Il bis è da applausi, ragazzo derubato della vincita. Invece alle slot a Civitanova servono più controlli, mentre a Tolentino una mamma uccise da un male a 39 anni ha lottato come una guerriera. Il Corriere Adriatico dell'edizione di Pesero, il compleanno di Rossini, farà accendere via Passeri dal 29 febbraio luminarie e insegne artistiche con titoli delle opere del Cigno. A centro pagina VL, la grande illusione, un momento della partita combattuta fino alla fine dalla Carpegna Prosciutto a Venezia. Venezia sconfitta numero 15, ma la Reia deve soffrire per imporsi 98 a 92. E poi c'è una notizia che adesso vedremo tra pochissimo, subito dopo questa prima pagina, un uomo che abita in Veneto, che però non ha dato più segni di vita dal 23 di dicembre. Lo aspettavano per Natale. Eccola qua, la fotografia di Fabrizio Melodia. E' una foto che la moglie ha postato su Facebook, la moglie Sabrina Vianna, che ha dato questo allarme, ha lanciato questo invito sulla pagina sua di Facebook, dicendo, scrivendo a tutti gli amici di Fabrizio, che appunto è la moglie, non ha più notizie dal 23 dicembre. Il 24, racconta lei, sono stata dai carabinieri per fare denuncia di scomparsa. Se qualcuno scrive ancora, ha qualche informazione, contattatemi su Facebook o tramite un messaggio privato. Il messaggio che Fabrizio ha mandato, l'ultima traccia, risulterebbe a Pesaro, all'altezza dell'autogrill Foglia Est, sull'autostrada 14. Attenzione però, perché Melodia non guida, non guidava, ha detto che stava rientrando insieme a due professori di Marghera, con cui sta collaborando da mesi come sceneggiatori per un servizio commissionato da Sky International e che a settembre lo aveva portato all'Aquila e in alcune zone dell'Abruzzo. Dalla fine dell'estate però non aveva più fatto rientro a mira nel suo paese di origine, però la copia, che sta insieme ed è sposata da più di 15 anni, scrive Simonetta Marfoglia, si sentiva regolarmente tutti i giorni. Insomma, l'aspettavano per Natale, però di lui, da quella telefonata fatta dall'area dell'autogrill Foglia Est in A14, da quella sera non si hanno più notizie. Rubano un cellulare come pegno del debito. Siamo ad Urbino, una serata tra amici, una notte finita in un litigio per precedenti questioni economiche, rivendicando dunque un debito. Uno dei due conoscenti ha deciso di impossessarsi del telefono cellulare della vittima. La vittima è un marocchino, un 25enne residente ad Urbino, che ha chiamato poi Carabinieri di Montecchio per quella che lui ha definito una rapina fatta da due conoscenti, due connazionali di 25 e 40 anni di Gallo di Petriano. Rivendicando, come dicevo, un debito, uno di questi due conoscenti ha deciso di prendersi il telefono cellulare e anche alcuni documenti di proprietà di questo 25enne marocchino come pegno di garanzia. Come dire, quando tu mi restituirai i soldi che mi devi io ti riderò il cellulare e i documenti. Poi il secondo connazionale si è fatto a sua volta consegnare il maltolto, insomma un passaggio di mano un po' così così, un racconto certamente un po' confuso. Alla fine i Carabinieri comunque sono riusciti a ricostruire il tutto e a fare in modo che insomma questo cellulare tornasse nella disponibilità del legittimo proprietario. Creare un'impresa invece, l'altra notizia che sta sotto alla pagina di Urbino, è una notizia che racconta quello che si sono detti qualche giorno fa in una conferenza stampa alla Camera di Commercio per quanto riguarda i vantaggi di un servizio che viene effettuato in uno sportello unico che garantisce l'apertura e la creazione di un'impresa in un solo giorno. E già in Italia sarebbe già qualche cosa. Una semplificazione diciamo così burocratica fino alla possibilità di creare appunto un'impresa in 24 ore superando tutte le lungaggini italiane. Tutto questo grazie a questo sportello unico attività produttive che si chiama SUAP appunto si tratta di un servizio della Camera di Commercio che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di accedere direttamente a documenti delle imprese senza doverne richiedere copia alle stesse aziende. E su questo insomma possiamo dire che è una buona cosa poi dopo c'è tutto il resto che invece fa passare la voglia di aprire le imprese che sono le tasse e le tassazioni che quindi è meglio lasciar perdere. In San Silvestro invece il San Silvestro in piazza o al Palace anche Urbania e Fermignano insomma trovano spazio, un piccolo trafiletto nel giornale di oggi per ricordare che anche loro esistono anche loro avranno la loro festa dell'ultimo dell'anno e quindi non ci sarà soltanto a Urbino a festeggiare il San Silvestro in piazza della Repubblica perché a Urbania per esempio c'è l'evento New Year 2020 che si svolgerà in piazza San Cristoforo a partire dalle 19.30 con un aperitivo cui seguirà alle 23 in ritrovo in piazza per il conto alla rovescia. Così come a Fermignano dalle 20.30 il veglione di fine anno è organizzato dal gruppo Giovani Fermignano che dà appuntamento al Palazzetto dello Sport. Questa invece è Fano con un quadro estremamente dettagliato scritto da Massimo Foghetti questa mattina sul reddito di cittadinanza tutte le informazioni e le curiosità le troverete in questo articolo dunque perché si parla del reddito di cittadinanza? Perché è stata avviata la ricerca del lavoro ora non entriamo nel meccanismo perché se no rischiamo di farla troppo lunga però il centro per l'impiego ha convocato circa l'80% di coloro che hanno fatto richiesta e che hanno beneficiato stanno beneficiando di questo reddito di cittadinanza e a gennaio ci sarà il raccordo con le aziende ma andiamo noi a vedere invece i dati che forse in questo caso ci interessano un po' di più allora secondo appunto questi dati che sono stati resi noti dal responsabile Flavio Nucci che vedete in questa fotografia sulla destra su 2.920 beneficiari residenti in provincia quelli che vivono nel comprensorio di Fano sono 1.186 quindi circa il 40% di questi il 57% sono donne ovvero 674 e il 43% sono uomini 512 un dato interessante è che secondo l'identikit del centro per l'impiego è di nazionalità italiana l'85% dei beneficiari quindi solo il 15% appartiene ad un paese estero in prevalenza si tratta di immigrati albanesi e marocchini seguiti dai romeni prevalgono i richiedenti della fascia di età comprese tra i 51 e i 60 anni dunque il 33% ma quali sono le caratteristiche? molti hanno soltanto la licenza media dei 1.186 richiedenti reddito di cittadinanza all'esame del centro per l'impiego di Fano coloro che risiedono in questo comune sono il 45% mentre rispettivamente il 10% risiedono nei comuni di Cole del Metauro Fossombrone e Mondolfo molti non hanno competenze specifiche e sono in possesso solo di un titolo di studio di scuola media le donne in prevalenza aspirano a fare la cameriera o ad essere impiegate nelle pulizie diversi stranieri sono laureati ma il loro titolo di studio non è riconosciuto qui in Italia la maggioranza degli aspiranti ad un posto di lavoro era già a conoscenza del centro per l'impiego di Fano al momento delle imprese al momento dalle imprese giungono segnali di curiosità per il procedimento in atto e ci sono ripeto anche altri dati interessanti che potrete leggere sul giornale di questa mattina altri dati importanti per esempio è che una buona parte che è stata esonerata e che quindi potrà anche non andare a cercare lavoro per cause personali o familiari molti per esempio hanno un malato in caso oppure un anziano da accudere sulla pagina di Fano invece del resto del carino si parla ancora di questa diatriba sulla questione Povia il cantante che è stato ingaggiato dall'ente carnevalesca per partecipare a una delle domeniche del prossimo carnevale che ormai è mineta arriverà subito dopo nel mese di febbraio insomma subito dopo all'inizio dell'anno la maggioranza si spacca sul caso Povia non si placa la polemica accusa la consigliergia comune del PD quindi il comune da 130 mila euro al carnevale e bisognava vigilare ma abbiamo già detto è una polemica sterile che serve più per avere un po' di visibilità da parte di qualcuno perché insomma che questo Povia che si avrà detto delle stupidaggini 15 anni fa avrà detto delle cose per le quali magari si è anche pentito l'ha anche già detto insomma marchiarlo a fuoco ma poi da quelli di sinistra che è una cosa che non sta nel cielo e nel terra magari uno se lo può aspettare da quelli di destra ma che venga marchiato a vita uno perché ha detto una cosa su una scia chimica piuttosto sull'omosessualità 15 anni fa insomma mi pare veramente una polemica sterile e che non merita e forse gli stiamo dando già anche troppo spazio anche qui ma insomma che non merita granché di attenzione per il resto dicevo è vero il carnevale prende dal comune di Fano 130 mila euro ma Povia per questa per questa apparizione per questa partecipazione ne prende due 2 mila euro quindi insomma non penso che bisogna occorra stracciarsi le resti Amarotta invece brucia un cassonetto vicino a un ristorante il sospetto è che sia ancora una volta doloso ed è caccia all'incendiario mentre sulla pagina di Vallefoglia si parla questa mattina di una mostra una mostra interessante tra l'altro che hanno visitato centinaia di persone si intitola La Contea di Sant'Angelo in Lizzola dei Mamiani della Rovere 1584-1816 ora questa mostra ha avuto certamente un bilancio positivo perché appunto tanta gente è andata a visitarla e soprattutto la curatrice dice tra le tante curiosità e tra le tante domande che sono state poste dai visitatori c'è per esempio ha sollevato stupore il fatto che allora si usasse un'altra lingua per esempio ma anche sapere che il fiume Foglia a quei tempi era navigabile questa è una cosa che ha stupito molte persone mentre dalla Valle del Cesano e qui ci avviciniamo alla festa di domani alla festa dell'ultimo dell'anno e alle notizie che riguardano quest'ultima notte del 2019 dalla Valle del Cesano da Mondolfo dicevo arriva la notizia che c'è un divieto un divieto di esplodere petardi entro 300 metri dalle case anche qui ve lo potete immaginare cioè quante multe verranno elevate domani sera per con il metro alla mano con 300 metri dalle case vabbè comunque l'ordinanza in vigore da oggi fino al 6 di gennaio per tutelare persone animali e cose il divieto è sancito con ordinanza dal sindaco di Mondolfo è valido a partire dalla giornata di oggi come dicevo fino al 6 per il quinto anno il sindaco adotta l'atto per sanzionare gli eccessi gli eccessi gli eccessi rischiosi ora la pagina invece del sempre del Corriere Adriatico ma si occupa di un'altra festa di un'altra piazza ben più grande dove comunque ci sarà anche qui un'ordinanza i fuochi che non si potranno esplodere ma solo nel centro storico poi altrove a Pesaro invece i fuochi d'artificio si potranno e i botti si potranno sparare senza problemi piazza del popolo pronta la festa musiche locali firmata l'ordinanza in Viale Trieste centro stop lo stop sarà a Luna alle 3 invece nelle zone della Movida mentre il resto del Carlino fa un resoconto un po' più ampio dove aspettando la notte di San Silvestro aspettando San Silvestro sotto le stelle in questo resoconto si parla invece di anche di altre piazze per esempio allora andiamo a leggere Fano qui sono gli appuntamenti organizzati anche dal Proloco della provincia Fano per il Capodanno 2020 ci sarà l'animazione di Radio Studio più dalle 22 e 30 parliamo di piazza 20 settembre con l'accompagnamento musicale di un DJ al quale poi alle 22 e 30 si unirà una vocalist Sabrina Ganser a seguire poi sarà il turno di Aiduci artista rumena spero si lega così conosciuta con la sua hit Dragostea Dintei che avrà il compito di trascinare la piazza piazza 20 settembre a Fano con balli scatenati fino al nuovo anno la serata poi tornerà ad essere guidata da Radio Studio più quindi questo è un po' in sintesi quello che avverrà a Fano poi ci sono come dicevo altre piazze abbiamo detto Urbagna Fermignano Urbino Urbino l'ultimo dell'anno sarà in piazza della Repubblica dalle 23 anche qui ci sarà animazione con la musica eccetera poi c'è Gradara e ovviamente abbiamo detto Pesaro Pesaro che cercherà in tutti i modi così come in altre piazze importanti di garantire la sicurezza con gli agenti gli agenti polizia carabiniere e quant'altro per quella che è considerata la notte più lunga aperte le piste anzi la pista ed alcune casette la pista di pattinaggio sul ghiaccio divieto di usare petardi sul vetro ancora invece manca l'ordinanza sulle bottiglie di vetro uno dei pericoli maggiore invece è la gente ubriaca a presidiare ci saranno una dozzina di uomini indivisa poi barriere antiterrorismo quelle che sono piazzate nelle vie di accesso alla piazza quelle insomma che impedirebbero o impediscono servono ad impedire che qualcuno prenda così come è successo in capitali europei recentemente o comunque l'anno scorso due anni fa insomma possa entrare con dei mezzi camion o quant'altro nella piazza dove comunque ci sono tante persone assembrate ora buon compleanno Rossini invece l'altra notizia che arriva sempre dal Corriere Adriatico via passere che si illumina mi pare che qui sia una cosa un'idea che è stata copiata da Bologna con queste scritte in realtà queste insegne artistiche che si ispireranno ai titoli delle opere di Gioacchino Rossini quindi ci saranno dei titoli appunto di tutte queste opere queste scritte che verranno installate lungo questa via quindi via Passeri a Pesaro una cosa che tra l'altro aveva lanciato già come idea lo stesso Matteo Ricci qualche settimana fa su Facebook su qualche social comunque ricordo una via che a Bologna ha riscosso molto successo queste scritte questi pensieri queste lettere e quindi ecco una cosa che più o meno dovrebbe essere fatta anche in via Passeri prossimamente Berloni Gruppo invece in fila per comprare almeno tre offerte di acquisto già sono sul tavolo il liquidatore accetterà proposte fino al 15 di gennaio Berloni è un marchio storico che non può non interessare imprese del mobile sia locali che internazionali dunque ci sono queste tre manifestazioni di interesse per acquistare la Berloni Group ora ancora in mano di imprenditori di Taiwan imprenditori che però come abbiamo detto vogliono sbarazzarsi nell'azienda che contava fino a due settimane fa circa 80 dipendenti è stata posta improvvisamente liquidazione con nomina del commercialista Alessandro Meloncelli che è di Roma come liquidatore dunque il futuro dell'azienda creata 60 anni fa dai fratelli Antonio e Marcello Berloni e si gioca da qui al 15 gennaio termine ultimo per presentare le richieste di acquisto l'ultima pagina invece la dedichiamo ai morosi quelli che non pagano le quote dei grillini nelle marche è un articolo che troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina è una classifica della restituzione dei rimborsi sapete cavallo vecchio cavallo di battaglia dei grillini mentre Cataldi avvisa Di Maio dice più incisività sul sisma oppure io me ne vado e allora la situazione dei pagamenti nelle marche lo vedete in questo riquadro dove ci sono i nomi l'ultimo mese saldato e la somma restituita fino a questo momento i nomi li potete leggere scorgere più o meno da soli questa è la camera e qua sotto invece ecco qua il Senato stessa cosa con l'ultimo mese saldato e la somma restituita vedete Donatella Agostinelli del Senato l'ultimo mese saldato era marzo ha restituito finora 280 mila euro e mentre la somma più alta alla camera è di Patrizia Terzoni l'ultimo mese saldato ad agosto 234 mila 796 euro sono quelli dati restituiti fino a questo momento noi ci fermiamo qua la rassegna stampa del 30 di dicembre termina qui vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale occhio alla notizia alle 20 e 30 arrivederci a Grazie a tutti.